Io e mio figlio abbiamo una passione, il basket. Mia moglie e mia figlia invece amano la danza. L'auto è una e i chilometri sono tanti. A me serviva un'assicurazione completa, però conveniente. Sono andato su facile.it, ho confrontato le assicurazioni e ho trovato la migliore per me. Me l'ha consigliato anche un loro consulente. Hai tutte le coperture che ti servono. E ho risparmiato quasi 500 euro. Facile.it, facile.it, facile.it. Risparmiare è facile.